E' tra le prime donne a guidare un reparto mobile della Polizia di Stato, nuova avventura prestigiosa per la sulmonese Silvia Conti, già comandante della Polizia Stradale dell'Aquila che nei giorni scorsi ha lasciato la città capoluogo per approdare in quel di Firenze come dirigente dell'ottavo reparto mobile, la Celere della Polizia. Si tratta di un passaggio particolarmente significativo e importante visto che la Conti è tra le prime donne in Italia a guidare un reparto mobile. Silvia Conti è la sorella dell'ex forestale Guido, scomparso il 17 novembre 2017 in circostanze tragiche. E' in missione da meno di 10 giorni, trasferimento ministeriale scatterà molto probabilmente tra una ventina di giorni. Le è stato affidato, come detto, l'ottavo reparto mobile della Celere di Firenze che si trova a Collina Arcetri. Si tratta di un organismo composto da quasi 500 persone. La sulmonese ha voluto quindi accettare la sfida in un'ottica di rinnovamento e innovazione per le dirigenti donne in Polizia. Alla Conti vanno le congratulazioni da parte dell'intera redazione di Onda Tg.